e benvenuti su qualsiasi siamo subito giochi oggi per voi a far gioco in compagnia di bunzi bella ragazzi e siamo qui per fare una sfida a fifa 16 ora sceglieremo le squadre perfetto lui ha scelto il totale ma io ho scelto il borussia squadra è praticamente molto forti ecco qua siamo pronti a fare il culo a buba mc ci scusiamo in anticipo se non guarderemo la una mamma è normale ebbe ok subito gioco di fascia aspettiamo che bubo ci caschi ok perdo subito il pallone bravo verità fair play sembrava brutto capito la palla lì c'è rimasto un poco male dembélé guardate bubo che vede l'inserimento incidie controllo ma grazie prego ci vabbè ma cazzo ma sembra di sinistra mi porto sul test incidie apre per la mela la mela si avvicina al al cesto di frutta attenzione dai vero ma che cazzo qua vabbè ma è il momento di perdere palla vedete no che cura rigore come rigore hai messi i falli di mano io mi butto di là non me l'ho sbagliato vabbè sono proprio cancro non mi sta riuscendo un tiro vai pisce che vede boomerang ho boomerang di testa si finisce alla pezzi apre perco di cane ma arriva un messo ma voglia da una madonna bubo solo una cosa so fare è la difesa è l'unica 2 pensate all'anno prossimo su fifa pro club questi due ragazzi a giocare dai vabbè ma che cazzo c'è la slow motion sulla linea walk vengono la ritenza texas ranger vabbè non mi ci credo castro nessuno mamma mia questo ragazzi questo è il mio rosso dal mio gioco a te il rigore è sbagliato ma fifa lo sai già che cosa è la logica quando si fanno troppi sbagli riuso non parlo è una cia sera più forte no ma può accorgere difensiva ma cazzo ma tiene tre gambe quello attenzione 0 a 0 combattita bubo sfortunato sullo 0 a 0 mamma mia amici e che ti dirà un po' hai capito cosa ti dirà non lo so i cubetti di ghiaccio in lavoro però la malzata con l'intervento ottimo mamma mia che cazzo è un giudizio carnavo le piedi cazzo mille piedi ok ho capito il gioco che devo fare continuo abbiamo capito abbiamo capito che i giudici che erano prossimo in difesa sul programma quanti ti ha fatto giudizio la partita allora quant'è quello normale per l'intervento l'intervento è un'altra la prima la prima la prima bubo mc con il g e 69 69 questo è l'ho consigliato allo zio boss che lo fa già segnalo a minuto 69 eh segnalo a minuto 69 eh segnalo a minuto 69 eh palla mia palla mia palla mia prendi questa guardalo com'è imparato a muovere il giocatore c'è un gigante bella eh no no questo merita no hai colto gol lui non ho parole sta solamente in cat dalla zio c'è un gigante oddio no errore di giocatore è morto il mio giocatore oddio muo prendimi questa prendimi prendimi questa vada come vada ragazzi dopo questo episodio è tutto ce l'ho da Faggi болgr consistency bubble buon si ciao ciao 30 secondi 30 secondi ok ti butto giù questa torre quindi diciamo siamo in vantaggio No, ho tornato a fare.